Ciao a tutti ragazzi, qui è Cydonia e benvenuti in un nuovo video analisi dedicato a leggende Pokémon Arceus, il nuovo titolo open world di Game Freak in uscita a gennaio 2022 per Nintendo Switch. Con sorpresa, che è un eufemismo per dire Cazzo pubblicate trailer senza avvisare, ma era il quindicesimo anniversario di Diamante e Perla Ma chi cazzo se lo ricorda? The Pokémon Company ha rilasciato due trailer sui suoi canali ufficiali nella giornata di martedì. Uno dedicato ai titoli ambientati ad Isui e della durata di circa tre minuti e mezzo E uno dedicato ai remake di Diamante e Perla, che dura circa 30 secondi meno. Come di consueto, questa settimana ci dedicheremo all'analisi di tutte quante le informazioni su leggende Pokémon Arceus Mentre settimana prossima la stessa sorte toccherà allo sforzo di LCA. Gli argomenti di cui parleremo oggi, come sempre, sono molteplici E non vedranno solo come protagonisti i trailer nelle versioni occidentali e orientali. Sito ufficiale, press kit e dichiarazioni del comunicato stampa aiuteranno il nostro lavoro di dissezionamento Condito di ipotesi e congetture che ci permetteranno, al meglio si spera, di prevedere cosa ci possa attendere In questo nuovo capitolo del franchise Pokémon. Io sono pronto. Cominciamo. Pronto. Una parola importante quest'oggi. Il nostro ultimo video analisi, perdono, si è chiuso con un'affermazione molto importante che covavamo fin dal primo Pokémon Presents di febbraio e che finalmente si è rivelata veritiera. Isui non è la landa disabitata e solo naturale che ci si poteva aspettare inizialmente ma è un luogo nel quale risiedono degli umani autottoni con loro usi e costumi. Benché quindi il treno delle teorie si trovi sul binario giusto, dobbiamo da subito aggiustarne la rotta. Se a nostro avviso gli uomini dal kimono speciale visibili nell'artwork della mappa di Isui erano dei popolani già assoggettati ai colonizzatori del Team Galassia, inglobati nella squadra di ricerca e di rango più alto rispetto al protagonista, le cose stanno in maniera diversa. Questi umani sono completamente scollegati dal villaggio giubilo, sono liberi. E benché la loro organizzazione sociale e politica non sia chiara, sappiamo che fra essi esistono alcuni individui denominati capitani. Il trailer di martedì è generoso e ci rivela ben quattro di questi personaggi. Abbiamo Risa, donna in particolare sintonia con i Pokémon, Rapan, giovane talento e abile minatore dato il piccone dietro la sua schiena, Sinan, amante dei mari ma terrorizzato dai fantasmi, e Maru, lupo solitario che viene raccontato a gestire le proprie responsabilità completamente in autonomia. Proprio come molti personaggi già rivelati negli scorsi trailer, anche alcuni di questi capitani sono ispirati a vecchi nemici e amici. Risa è chiaramente un'antenata di Risetta, personaggio di supporto di Sinno, Maru è identica alla generale Martes del Team Galassia moderno, e Rapan ricorda tanto nell'aspetto quanto nel nome una giovane versione del capopalestra di Unima, Rapan, soprannominato da Gekis il Re dei Minatori, e dunque in pieno legame anche con il piccone mostrato nel trailer. Sinan, invece, non sembra legato ad alcun personaggio in particolare. Alcuni lo associerebbero a Ciprian, ma data la strettissima somiglianza di tutti quanti i personaggi di leggende Pokémon Arceus con i loro eventuali discendenti, in questo caso immagino che si tratti di un personaggio slegato dagli eventi e dagli individui del futuro, come l'Aven, per esempio. Se il legame con alcuni personaggi futuri non sorprende, il caso di Rapan ci permette di fare un'importante riflessione. Per la prima volta vediamo l'antenato di un personaggio non di quarta generazione, ma di quinta, confermando un sospetto che avevamo già comunicato durante l'ultimo episodio del laboratorio di Fuji. Leggende Pokémon Arceus non vuole essere un tributo alla sola quarta generazione, ma una sintesi di tutte le generazioni Pokémon uscite sinora, reinterpretate in chiave arcaica. La scelta suggerisce la volontà di conferire all'open world un'identità unica e autonoma rispetto alle uscite precedenti, con un mix di personaggi che non si sono mai trovati a condividere lo schermo insieme e che con redesign e evoluzioni alternative assumono un'identità forte e univoca. Aspettiamoci quindi che questo schema venga reiterato. Altri personaggi di generazioni diverse dalla quarta, nei trailer dei prossimi mesi o addirittura nel gioco completo, potrebbero venire rilasciati. Antenato di AZ che ci spiega l'assurdità della sua tecnologia, Antenato di AZ che ci spiega l'assurdità della sua tecnologia, Antenato di AZ che... Quale sia il compito dei capitani, fortunatamente ce lo spiega nel dettaglio il sito ufficiale. Essi proteggono alcuni Pokémon speciali, assicurandosi che nei territori in cui vivono non siano presenti minacce e portando loro offerte in cibo e acqua. È proprio in questa descrizione che ci viene data la conferma dell'indipendenza tra tali figure e gli individui del Team Galassia, dato che sono legati solo alla cultura e alle credenze del luogo. La gente di Isui rispetta profondamente questi Pokémon ed è proprio questo popolo a individuare i capitani e a dar loro l'incarico di proteggere i destinatari viventi di una fede che è arrivato il momento di approfondire. Avevamo già ipotizzato dalla descrizione di Weirdir che il popolo autoctono di Isui venerasse i Pokémon e con il trailer di martedì abbiamo non solo una conferma ma un'esasperazione di questo concetto. I popolani non si limitano a trattare con rispetto i Pokémon ma divinizzano queste creature e con alcune di loro si instaura un vero e proprio rapporto servile. Gli esseri umani attraverso i capitani scelti si sincerano che questi Pokémon vivano in sicurezza e procacciano loro cibo e acqua che vengono donati nella forma di offerte. Il termine è un chiaro riferimento alla reale pratica comune a molte religioni di offrire strumenti e risorse umane agli dèi il che ci conferma che anche i Pokémon in questione vengano percepiti come divini. Offrire qualcosa a un dio o a un animale divino nel caso preso in analisi di Isui significa innanzitutto privarsene e quindi questo dona all'azione un sottotesto sacrificale. In alcuni frangenti l'atto è espressione di uno scambio equivalente donare qualcosa a dio affinché esso faccia qualcosa per noi come nel caso dei riti propiziatori mentre in altri casi è un gesto che viene fatto verso una divinità che è caritatevole a prescindere dai gesti degli umani e l'offerta assume quindi un gusto di sdebitamento. Approfondiremo più tardi il significato di queste offerte e per ora vorrei semplicemente analizzare la loro generale sacralità. La religione di Isui esiste vede l'uomo sottomesso al Pokémon o quantomeno è estremamente grato ad esso. A tal punto da dover eleggere figure che si curano del suo benessere. Muori da memoride o vivi talmente a lungo da diventare la serie principale. E farei la solita battuta sul bonifico ma mi hanno dedicato questo Pokémon quindi va bene. Le asci al posto delle mani è veramente una scelta pessima però. Riuscite a percepire il fascino dello scontro ideologico che sembra presentare il nuovo titolo di Game Freak? Le due società che si troveranno a correre per la regione di Isui in leggende Pokémon Arceus sono agli antipodi e fisiologici attriti temo che saranno inevitabili. Da una parte il team Galassia detesta i Pokémon li vede come oggetto di asettici studi biologici da parte del professor Laven e bestie pericolose e terribili come nelle ammonizioni dello scorbutico capo Sorwan. Dall'altra parte gli autoctoni di Isui venerano a tal punto i Pokémon da sentirsi in dovere di offrir loro continue scorte di viveri e nominare degli individui che si sincerino che questo avvenga. Per chiudere questa riflessione quasi teologica quanto appena detto è coerente con le affermazioni che abbiamo fatto nel precedente videoanalisi. Il dio Arceus è un'entità che pretende tributi o che comunque si aspetta di riceverli nella forma diretta o indiretta e non sorprende che divenga Iracondo quando su suolo sacro cominciano a camminare degli esseri umani che rappresentano ideali totalmente opposti e che vedono i Pokémon come schiavi. Ma dunque quali sono nel dettaglio questi Pokémon divini ai quali i Capitani devono fare la guardia? Attualmente ne conosciamo quattro benché uno sia privo di nome e connotati. Abbiamo il Weirdir speciale alla cui cura è preposta Risa il Basco Legion riverito dal Capitano Sinan Cleavor nuova evoluzione regionale di Saiter di tipo Coleottero Roccia coccolata da Rapan e un'anonima regina che è affidata alle attenzioni della solitaria Maru. Che poi Saitonia e Saiter iniziano anche allo stesso modo ho capito cosa hai fatto Masuda che ridere! L'iconografia di questi Pokémon è talmente sacra che possiamo ritrovarla anche sulle vesti dei Capitani. Tutti loro infatti portano sul braccio destro un bracciale di legno in stile tribale che mostra chiaramente l'effige del Pokémon riverito di turno e che è invisibile solamente nel caso di Maru perché credo che The Pokémon Company non voglia ancora farci comprendere l'identità del suo curato. Osservando l'artwork di Risa possiamo infatti notare il volto di Weirdir in quello di Sinan vediamo chiaramente alcuni dettagli della coda rossa zigzag di Basco Legion e la sagoma della testa di Cleavor è fieramente intagliata sul bracciale di Rapan. Inoltre tali strumenti sembrano presentare la colorazione di almeno uno dei due tipi di queste creature speciali. Il bracciale di Risa è bianco come il tipo normale dell'evoluzione di Stuntler quello di Sinan è in linea con il blu del tipo acqua di Basco Legion e quello di Rapan con le tonalità di marrone tradizionalmente associate al tipo roccia espresso da Cleavor. Anche se appunto non è possibile osservare il volto della regina di Maru e credetemi ci ho provato facendo le 476 screenshot ma niente è comunque possibile denotare una colorazione verde del suo bracciale. È probabile data la tonalità del colore che si tratti di un Pokémon erba visto che il tipo coleottero solitamente è associato ad un verde un po' più chiaro. Vorrei portare oltre questa osservazione verso una conclusione quasi scontata. Dato il termine italiano capitani utilizzato anche ad Alola per designare le figure dei capi palestra ante litteram è possibile che anche questi personaggi ricoprano un ruolo simile rivelandosi specialisti di un determinato tipo Pokémon prima dell'istituzionalizzazione di questa categoria nelle future leghe. L'ipotesi sarebbe supportata da alcuni elementi del trailer. Risa ha un Munchlax di tipo normale che sarebbe quindi in linea con il colore presente sul suo bracciale. È dunque possibile che il progresso di leggende Pokémon Arceus vedrà l'esploratore protagonista non solo impegnato con il completamento del Pokédex ma anche con la ricerca e incontro di ognuno di questi capi palestra arcaici che gli daranno compiti e obiettivi da svolgere. Nella sezione lotte Pokémon contro altre persone del sito ufficiale possiamo leggere che è raro che succeda tuttavia ci sono persone come ad esempio alcuni capitani che hanno stretto saldi legami con i Pokémon e potrebbero volerti sfidare. Tale frase oltre a confermare la nostra supposizione sulla rarità ad isui delle lotte fra umani suggerisce che alcuni capitani vorranno effettivamente sfidarci mentre altri avranno plausibilmente missioni differenti per noi come per esempio le prove del giro delle isole di Alola. Seppure vi siano diversi elementi che tracciano parallelismi fra i capitani di Isui e quelli di Alola credo ci sia una linea di demarcazione piuttosto netta fra le due figure. In uno dei dialoghi del capitano Sinem egli afferma che le visite a sorpresa lo mettono estremamente a disagio. Dopodiché esclama attitubante quindi che ci fai qui? L'atteggiamento di Sinem lascia intuire che l'uomo non si aspettasse di ricevere visita da qualcuno e quindi non è capace di ipotizzare i nostri intenti nell'immediato men che meno di capire che siamo alla ricerca di Pokémon per il completamento di un bestiario cartaceo. Se per il giocatore ha senso cercare Sinem anche solo per chiedere informazioni sull'habitat circostante per il personaggio a quanto pare non ha senso essere cercato il che suggerisce che non esista alcuna tradizione di sfida dei capitani di Isui altrimenti voglio dire Sinem avrebbe esclamato qualcosa tipo ehi sei qui per la mia prova sei qui per la sfida sacra o robe simili. Non solo quindi non è presente una lega Pokémon come del resto non lo era neanche a Dalola ma è anche assente il concetto di prova di esame di certificazione delle proprie abilità tramite il combattimento del singolo con esperti eletti da qualcuno o qualcosa. I capitani sono solo curatori dei Pokémon divini al massimo evangelisti e saranno percepiti come capipalestra arcaici unicamente dalla prospettiva del giocatore a conti fatti questi poveri cristi vogliono farsi solo i cazzi loro dato che troviamo Sinem davanti a una di quelle tende fumanti visibili anche nell'artwork ufficiale della mappa di Isui dobbiamo rettificare una vecchia congettura tali elementi non rappresentano dei checkpoint né degli accampamenti minuti ma luoghi di sosta d'emergenza dei capitani occupati a curarsi del Pokémon sacro a loro attribuito dato che la tenda di Sinem si trova a pochi metri dallo specchio d'acqua circolare posizionato in mappa in alto a destra possiamo constatare che essa si assente nel disegno ufficiale dato che quella più vicina si trova troppo in prossimità del Monte Corona e circondata soprattutto da montagne che dovrebbero oscurare al capitano la visuale sul mare questo elemento unito al fatto che quelli che vediamo nell'artwork attorno alle tende sono comuni popolani e probabilmente non capitani mi fa pensare che il loro posizionamento sia puramente indicativo alla pari degli esseri umani che vediamo lavorare sul perimetro della regione con la loro presenza Game Freak vuole solo raccontarci che il popolo di Isui è anche solito accamparsi in mezzo alla natura forse tracciando un parallelismo tra questo momento storico e la futura usanza del poche campeggio che verrà ereditata dalla cultura gallariana a riprova di ciò benché Sinem possegga una tenda né Risa né Rapan entrambi osservati nella terra sacra che vigilano sembrano trovarsi vicino a un oggetto simile i capitani come tutti possono possedere una tenda e farne uso ma non dobbiamo pensare che questi oggetti siano l'equivalente delle palestre Pokémon in questa regione chiudendo la parentesi somiglianze e divergenze tra capitani e moderni capipalestra possiamo provare a ipotizzare il loro numero e posizionamento dato che Game Freak non ha quasi mai rinunciato al concetto di 8 specialisti tranne da Lola dove i capitani sono 7 ma abbiamo anche la peculiare aggiunta di 4K1 l'ipotesi più probabile è che anche i capitani di Isui siano 8 o comunque 8 siano i territori sacri che il giocatore dovrà esplorare e davanti ai quali sembriamo trovare alcuni dei capitani annunciati come testimoniato da queste immagini del press kit di questi capitani due si trovano alla landa ossidiana come recitano esplicitamente le schede del sito ufficiale di Risa e Rapan e grazie a una mappa presente nel press kit che è sicuramente di questo luogo data la coincidenza di conformazione delle insenature e presenza del lago verità possiamo anche individuare l'esatto posizionamento delle loro missioni chiave quella di Risa dovrebbe trovarsi presso l'altura Gran Corno di cui nome e geografia coinciderebbero con i frame di un weirdir su un alto ciglio più volte mostrato nei trailer mentre nell'arena del colosso troveremo Rapan dettaglio esplicitamente confermato proprio dal log di missione mostrato in mappa che richiede di fermare lì la collera di Cleavor Sinem è poi chiaramente posizionabile nell'insenatura superiore della regione e vista la scarsa ampiezza della zona è probabile che sia l'unico capitano del luogo mentre per Maru non possiamo fare supposizioni dato che la sua zona non viene mai mostrata ad eccezione del letto di foglie sul quale e la si trova ciò che possiamo limitarci a dire data la presenza di cinque zone effettivamente esplorabili oltre il villaggio giubilo è che due capitani si troveranno nella landa ossidiana e sono Rapan e Risa altri due si troveranno nella zona adiacente e uno di loro potrebbe essere l'antenata di Martes Sinem sarà nell'estremità in alto a destra due nella zona nord con uno di loro quasi sicuramente ubicato all'interno del tempio di Nevepoli e uno l'ultimo in cima al monte Corona probabilmente all'interno di quel tempio ancora in salute che osserviamo nella box art del titolo quindi uno di loro dà da mangiare e bere addio facendo canestro negli ultravarchi me la da tre? come abbiamo anticipato poco fa il bracciale di Marue totalmente invisibile e non possiamo evincere quale sia il Pokémon alle associato di esso si può solo presupporre che sia di tipo erba data la coincidenza di alcuni Pokémon sacri con le cavalcature e la somiglianza della silhouette dello scalatore trapelato a febbraio con quella di una possibile evoluzione alternativa di Nasleaf e in molti ipotizzano che si possa trattare proprio di lei ma mi permetto di dissentire per capire meglio il perché dobbiamo scendere nel dettaglio dell'analisi di questi Pokémon speciali e dei ruoli che ricoprono se tutti i Pokémon annunciati sono esplicitamente rivisitazioni di Pokémon passati non è vero che siano tutti cavalcabili Cleavor non sembra essere una Mount ma un boss collerico la cui definizione è Pokémon regale in italiano o nobile in inglese prima di fronteggiare la creatura peraltro la stessa interfaccia di gioco ce lo presenta come re delle foreste lasciandoci capire perché nella slide di febbraio venisse presentato come re della battaglia o della guerra non si trattava di una metafora con la quale descrivere il ruolo di boss ma di un vero appellativo che è inerente alla lore di leggende Pokémon Arceus tenuto conto di questo dettaglio diamo un'occhiata a questa didascalia del sito ufficiale dedicata proprio ai Pokémon divini nella regione di Isui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione alcuni di questi conosciuti come Pokémon regali sono particolarmente potenti mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione sembrerebbe quindi essere davanti a un Out Out tutti i Pokémon sacri sono benedetti ma o sono Pokémon che aiutano volontariamente gli esseri umani o sono Pokémon con regali molto potenti quindi o sono cavalcature come Weirdir o boss affrontabili come Cleavor seguendo la nostra congettura per la quale i Capitani sono otto e essendo praticamente certo che a ognuno di loro sia affidato un solo Pokémon i Pokémon speciali potrebbero dividersi in due insiemi da quattro membri l'uno Weirdir Busculegion Bravery di Isui e lo Scalatore Misterioso sarebbero le cavalcature sacre mentre Cleavor e altri tre Pokémon regali rappresenterebbero i veri e propri boss sfidabili come già detto più volte il sito ufficiale ci menziona che Maru è alla cura di una regina e dato che i Pokémon speciali lo abbiamo appena detto o sono cavalcature o Pokémon regali trovo improbabile che il Pokémon sacro di Maru sia anche il mezzo per le scalate montane è più probabile che si tratti del secondo di quattro boss sfidabili e stando così le cose diventa davvero impossibile determinarne la vera identità se lo dico io benché alcuni fan abbiano cominciato ad associare questa creatura misteriosa a Pokémon erba come Tsarina che incarnano a livello di lore la figura di regina vi invito a ragionare sulla natura della regalità di questi Pokémon Cleavor l'unico che sappiamo per certo avere questo titolo non ha nulla che lo leghi realmente alla figura di un re e il suo appellativo più che alla storia della sua specie è dovuto banalmente alla sua grande potenza e all'aver ricevuto una misteriosa benedizione risparmierei quindi tempo ed energie perché con queste premesse qualunque vecchio Pokémon rivisitato potrebbe incarnare la regina di Maru in attesa di saperne di più vi chiedo di tenere stretto il concetto di benedizione ignota ci torneremo più tardi credo tra 60 minuti che è comunque più tardi domani ci torniamo comunque scommessa tu chi è e il Pokémon la regina? sì dai fanno la citazione a Martes ed è per ugly di tipo erba sì la divisione dei Pokémon speciali in due categorie i boss e le cavalcature separa anche necessariamente il gameplay delle rispettive missioni associate ai capitani se nelle quest simili a quella di Rapan ci si limiterà a menare il boss di turno e vedo difficile combattere anche contro la squadra di un capitano già in difficoltà non è detto che lo stesso avvenga per i capitani preposti alla cura dei Pokémon aiutanti vorrei quindi aprire due macro paragrafi per capire insieme che cosa poterci aspettare dalle quest che immagino scandiranno il ritmo di leggende Pokémon Arceus e vorrei partire proprio da quelle che si sono raccontate meno esplicitamente nel trailer che cosa deve fare il giocatore al cospetto di un capitano che protegge un Pokémon cavalcatura nel trailer di Martedì nella versione italiana possiamo vedere questo dialogo tra Luce e Sinan egli con solito fare preoccupato dichiara che sollievo non so che avrei fatto se Vasculijon non si fosse presentato il capitano della presa a male guardate la faccia in quest'altro frame capitano la frase suggerisce che Sinan abbia chiamato a sé il Pokémon sacro probabilmente per superare un problema che senza il pesce grosso sarebbe stato altrimenti insormontabile e il fatto che l'azione avvenga con successo fuga ogni dubbio sullo stato di questi Pokémon aiutanti e sì non sembrano i racondi sono mansueti non hanno perso il controllo sui propri corpi come del resto testimonierebbe anche la graziata camminata di Weirdir visibile in alcune sequenze animate del trailer ti carica come una riente no ti carica piano vabbè ti carica piano eh Archeus è poco arrabbiato in quel momento è un ammonimento ti sto avvisando guarda torna al villaggio esatto se non ci ritroveremo a riempire dimazzate le nostre mount per farle tornare in sé gli scenari possibili divengono infiniti e immagino che l'unica certezza sia quella dell'ottenimento della cavalcatura alla fine della missione potremo trovarci a dover raccogliere oggetti per il capitano di turno per ringraziarci i favori della creatura oppure salirle in groppa per avere una demo della feature poi sbloccata a fine quest e raggiungere così location precedentemente inaccessibili nelle quali si trovano Pokémon con gli occhi rossi che minacciano l'ecosistema del resto è proprio in groppa a Baskuligion che nel trailer d'agosto vediamo l'esploratore protagonista fronteggiare un Gerido Siracondo in una missione del genere il giocatore non solo si mostrerebbe capace di ridare la pace ai Pokémon selvatici ma anche e soprattutto di essere un fidato compagno per il Pokémon sacro ancora nella soluzione più banale ma anche per questo sicuramente presente altre missioni che coinvolgono le cavalcature potrebbero essere proprio quelle in cui i capitani hanno voglia di battersi personalmente battendoli e dimostrandoci in sintonia con i Pokémon conquisteremo la loro fiducia e quindi di riflesso quella del Pokémon sacro a loro attribuito curiosamente nello stesso punto del trailer ma nella sua versione inglese leggiamo un diverso dialogo tra Luce e Sinan che ci permette di continuare le congetture su queste missioni non è che sono io che sto allungando i video e rendendoli sempre più corposi e The Pokémon Company che non rilascia un trailer ma 45 diversi in ogni lingua è normale che poi uno fa un'ora e mezzo più o meno più o meno dimostimonia consegnato al giocatore in un momento indefinito della campagna principale probabilmente le prime ore di gioco lo strumento musicale è chiamato Flauto Memor Day e servirà per chiamare le cavalcature nel momento del bisogno il suo suono è uguale a quello del Flauto Cielo con il quale in teoria in Pokémon Diamante Perla si sarebbe evocato lo spazio origine di Archeos e persino il suo nome evidenzia una natura divina dell'artefatto Memor Day viene dal latino Memoria di Dio e il suo nome ricorda ampiamente quello di Memoride piccolo paesino nel quale si racconta la storia di tutti quanti i figli di Archeos e dell'equilibrio che essi instaurano benché in altre lingue si perda il riferimento al latino rimane il parallelismo tra oggetto e città di Memoride dato che in inglese ad esempio il Flauto è Celestica Flute e Celestic Town è il nome localizzato del piccolo paesino della nonna di Camilla possiamo dunque presupporre che il Flauto replichi la voce di Dio o un suono divino o ancora ricordi dell'esistenza di Archeos la cosa sicuramente farà accorrere le cavalcature in nostro soccorso una volta acquisite ma grazie al dialogo di Sinem possiamo ipotizzare che una prima melodia vada suonata ai Pokémon sacri durante il nostro primo incontro con loro quasi come a rivelare la nostra vicinanza con il Pokémon Primevo convinceremo le cavalcature di essere in buona fede riproducendo un suono divino capace di placare gli animi e chissà magari persino di rivelare dimensioni invisibili all'occhio umano sono abbastanza convinto che si tratterà di un elemento comune a tutte le quest dei Pokémon cavalcatura e non una peculiarità della missione del capitano di tipo acqua e i motivi della mia affermazione sono essenzialmente due il primo è che lo sfondo nel quale vediamo il flauto Memor Day nel trailer di Martedì è assolutamente incoerente con l'insenatura nella quale troviamo Basco Legion l'assenza di acqua sullo sfondo e di sabbia per terra rivela che l'avatar del giocatore è in un punto di isui completamente diverso ma nel quale suonare il flauto ha comunque meritato una sequenza animata il secondo motivo che probabilmente è anche in grado di farci geolocalizzare il suddetto frame è presente nella mappa della landa ossidiana in cima all'altura Gran Corno nella quale abbiamo motivo di credere che si trovi Weirdir abbiamo il simbolo bianco di una nota musicale siamo nel campo delle supposizioni ma credo che quello sia il luogo nel quale per la prima volta potremo sbloccare la cavalcatura Weirdir o ancora la location nella quale impareremo il motivetto per poterlo evocare da lì in avanti il progresso delle missioni dei capitani delle cavalcature quindi sarà una congiunzione di quanto detto finora in un ordine cronologico attualmente indefinibile da una parte avremo lotte o missioni di raccolta che daranno il corpo principale alla quest e dall'altra avremo il rito del concerto fatto al pokemon che magari richiederà di raggiungere un punto specifico nella mappa o di soddisfare delle condizioni per apprendere il brano di turno capito copiare Breath of the Wild non bastava più e quindi che fanno loro? da oggi copiamo anche Ocarina of Time hanno copiato Links Awaken fa tutto parte di un piano un'uma a casa che piange oltre a brevi sprazzi della missione per la cavalcatura marina vediamo anche diversi momenti dettagliati per l'ottenimento di Weirdir con Risa in primis siamo sicuri che con lei ci sarà una battaglia tradizionale a turni perché segmenti della lotta sono presenti sia nel trailer che nelle immagini del press kit nel dialogo che probabilmente precede tale sfida il capitano normale compie delle dichiarazioni importantissime che gettano nuova luce sulla lore di leggende pokemon Arceus ella dichiara che il Munchlax che ha accanto è un suo compagno e che praticamente sono cresciuti insieme in inglese la frase è ancora più esplicita con Risa che comunica al giocatore di essere stata cresciuta assieme al pokemon come fossero fratello e sorella ecco perché conclude il capitano ella non sente il bisogno di infilarlo in una palla ridicola per farlo lottare al suo fianco ancora una volta le frasi della donna mostrano l'abisso ideologico che si frappone tra gli autoctoni di Isui e il resto della terra se il narratore del vecchio trailer descriveva il mondo come un luogo nel quale uomini e pokemon trascorrevano ancora vite separate Isui fa sicuramente eccezione e ci mostra una società nella quale non solo umani e mostriciattoli tascabili sono parificati ma gli unici al di sopra di tutti loro sono pokemon definiti come speciali sacri aggiungerei io peraltro continuando a parlare della strana concezione gerarchica degli autoctoni vorrei farvi notare che le tuniche dei capitani non sono diverse da quelle degli altri popolani visibili nell'artwork ufficiale della mappa proteggere un pokemon sacro non ci rende superiore agli altri perché di base tutti sono assoggettati ai pokemon divini una netta antitesi ancora una volta rispetto al team galassia in un villaggio giubilo che divide le casacche del team galassia da quelle dei normali popolani che separa la squadra di ricerca dalle casacche rosse della vigilanza e il corpo di vigilanza dal capo supremo soruan che è l'unico con il diritto di indossare un kimono nero e che addirittura per segnalare la sua posizione di supremazia ha riverniciato le pareti del suo ufficio a proposito degli indumenti degli autottoni liberi di Isui c'è ancora un ultimo dettaglio da menzionare come avrete sicuramente già notato i popolani si dividono fra chi indossa tute rosa e chi blu scure e ciò che non avevamo stupidamente notato nello scorso video è che le tuniche sono ispirate alle fattezze di palchia e di alga con tanto di cresta sul cappuccio delle tute rosa identica a quella di palchia e gemma del corpo di di alga ripresentata nelle tuniche blu nella forma di ideogramma è quindi possibile che il popolo di Isui sia a conoscenza in linea di massima delle fattezze dei due figli di Archeus e che sia diviso nella vicinanza all'una o all'altra figura in una complementarità armoniosa che ricorda molto quella tra tempo e spazio tale divisione sembra puramente teologica dato che a livello geografico troviamo Risa e Rapan capitani diamante e perla nella stessa identica zona di Isui e che due capitani regali ovvero Rapan e Maru presentano comunque divergenze di vestiario per come la vedo io la presenza di due sottinsiemi religiosi comunque sposati sotto lo stesso tetto non è che una affettuosa citazione alle duplici versioni di gioco che in un titolo open world hanno dovuto lasciare spazio alla singola pubblicazione i popolani di Isui scelgono la loro divinità protettrice tanto quanto noi scegliamo il leggendario di copertina accettando però di condividere la stessa regione la stessa storia e di fatto gli stessi valori Saidonia da letture trasversali delle scelte di Game Freak palesemente non pensate dagli autori puntata numero non lo so però mi hanno fatti il pokemon va bene così tornando alle parole di Risa la donna sembra rigettare il concetto di pokeball che definisce come palle ridicole lo strumento è ovviamente visto come propagazione della forzatura di un rapporto uomo pokemon non desiderato e a esso viene contrapposta la naturale amicizia coltivata negli anni che rende il suo manchlax fedele per rapporto interpersonale e non per cattività l'esploratore protagonista abbracciando la causa del team galassia si fa diffusore di un'idea che un abitante di Isui non può accettare e a questo punto dato che Risa utilizza il termine voi dobbiamo riaprire una questione che ritenevo chiusa nello scorso videoanalisi permesso che è vero avevamo ragione gli autoctoni esistono vivono nel presente e non solo nell'antico passato chi siamo noi? stando a quanto ricostruito finora aveva senso pensare che l'esploratore protagonista fosse un traditore un abitante di Isui che si è lasciato abbindolare dai gingilli e dai fini illuminati del team galassia ma per amor di logica devo farvi notare che alcune dichiarazioni di Risa potrebbero indicare l'opposto dato che la capitana parla di voi che usate le palle ridicole ella non sembra fare riferimento a un popolo straniero del quale noi siamo solo un recente acquisto ma nel quale ci colloca senza troppa difficoltà inoltre in una seconda sequenza esclusiva del trailer giapponese Risa racconta l'avene al giocatore l'importanza di venerare Weirdir e di essergli grati per il suo operato mentre lo fa ella è girata verso l'esploratore protagonista che quindi sembra non conoscere il mito del pokemon alla pari di uno straniero come stanno le cose? siamo isuiani convertiti o stranieri immigrati? a mio avviso fino a prova contraria possiamo continuare a procedere sulla strada della conversione o quantomeno in un sentiero mediano il team galassia viene dall'esterno certo ma non avrà mica colonizzato la parte ovest di isui in due giorni ci saranno probabilmente evoluti anni nei quali prima questo popolo straniero ha incontrato gli autottoni poi li ha convinti a unire le forze con loro e dopodiché ci si è prodigati a costruire strutture anche abbastanza complesse come il quartier generale del team galassia ciò che è plausibile quindi è che il protagonista ancora una volta un bambino che avrà poco più di dieci anni sia cresciuto nel contesto di un villaggio colonizzato e quindi lontano dalla cultura e dall'ambiente della isui tradizionale il giocatore originario di questo luogo sì ma è naturalizzato del team galassia culturalmente molto più vicino a un colonizzatore perché è da anni che la presenza dello straniero ha trasformato la sua vita e quella della sua famiglia allontanandoli da usi e costumi originali dato che la missione di completamento del pokédex è cominciata da poco però come già constatato nello scorso video è altamente probabile che l'aven sia arrivato al villaggio giubilo un po' più tardi o che comunque le pokéball siano state ultimate solo di recente ecco perché passa del tempo da quando alcuni isuiani uniscono le forze con il team galassia a quando effettivamente si parte all'avventura della costruzione del bestiario cartaceo che sembra ancora ai suoi primi passi durante le prime ore di gioco dai Masuda fallo essere così ti prego torna torna anche se non è così cambia idea torna c'è poi un ultimo cruciale dettaglio che mi fa propendere per l'origine isuiana del protagonista nel comunicato stampa del titolo leggiamo che il flauto Memor Day è uno strumento misterioso che viene tramandato dalle genti di Isui da generazioni e generazioni e il fatto che finisca fra le nostre mani quindi testimonierebbe non solo che siamo anche noi di questo popolo perché la riluttanza degli autoctoni renderebbe insensato donare uno strumento sacro al primo straniero che passa ma anche che siamo degli individui speciali meritevoli o addirittura capaci innatamente di entrare in risonanza con uno strumento divino sia come sia che il titolo tratti di una conversione dal sacro al profano dalla via di Dio a quella della scienza rimane una certezza non il protagonista ma uno dei capitani si lascia accogliere in un momento di incertezza che lo pone in netta antitesi con l'intolleranza di risa Maru infatti nel trailer esclama voi del team Galassia conoscete tantissime cose mi piacerebbe imparare ancora di più da voi dico davvero se risa a paura delle pokeball Maru sembra interessata a conoscere di più del mondo che la circonda e sente che in questo gli stranieri sono molto più avanti rispetto al suo popolo in visita al villaggio giubilo infatti ella è distratta dalla bellezza dei tagli di capelli fatti dal barbiere della nostra base operativa che sono quantomeno influenzati dalla cultura fusion che aleggia fra queste abitazioni Maru è attratta da tutto ciò che caratterizza una cultura a lei lontana ed è davvero soddisfacente che un gioco pokemon abbia deciso di parlare del dilemma etico dell'accettazione dello straniero con personaggi che da una parte e dall'altra cercano di imporre i loro ideali e altri che invece sognano un'armonizzazione di poli opposti se dovessi tirare a indovinare direi che Maru alla fine si convertirà alla nostra causa e che questo è il motivo per il quale nel futuro Martes sua discendente seguirà la tecnologia galassia anche nel suo momento di massima corruzione ovvero come segreta organizzazione criminale nelle mani di Cyrus qualcosa che Risa al contrario non accetterebbe mai mostrando parola dopo parola l'incapacità di accogliere un punto di vista opposto date un'occhiata a quest'altra affermazione della guardiana di Weirdier probabilmente poco prima della lotta contro di noi ella dichiara come te la cavi con i pokemon credi di essere capace di affrontarli a una prima occhiata potrebbe sembrarvi una frase fatta ma non è così al contrario è un raro caso di dialogo scritto bene da Game Freak una malattia della quale sembrano essere affetti tutti quanti i personaggi di leggende pokemon Archeus e gliel'avrà forse passata Cydonia Cleavor se in qualsiasi altro gioco pokemon ella avrebbe dichiarato qualcosa tipo come te la cavi con i pokemon sei in grado di battermi spostando il focus del discorso sullo scontro fra uomini qui le cose vanno diversamente il capitano si chiede se l'uomo sappia battere un pokemon non è Risa a sentirsi protagonista della battaglia ma la sua creatura che l'esploratore protagonista dovrà battere in lotta a riprova della marginalità del concetto di allenatore che di fatto non esiste neanche in questo mondo passato l'animazione di ingresso di Munchlax in lotta vede solamente il pokemon protagonista dell'inquadratura mentre nel press kit possiamo rilevare che Risa è molto più lontana di noi dal campo di battaglia in una posa che sembra suggerire un suo ruolo da spettatrice piuttosto che da istruttrice badate bene è comunque possibile che Risa dialoghi con il suo pokemon ma dato il suo atteggiamento le sue affermazioni e il contesto della battaglia se vi fossero comunicazioni andrebbero più interpretate come consigli che come ordini Risa osserva il suo Munchlax che lotta contro il giocatore e dal suo punto di vista noi siamo rammolliti che non riescono a lottare da soli avendo bisogno di uno schiavo che lo faccia per noi e questo ci porta al secondo passaggio logico conseguente ad Isui al di là dei pokemon collerici anche i pokemon più comuni attaccano gli esseri umani lo abbiamo visto nello scorso trailer con i growlit di Isui che spammano botti in testa e frane a profusione se per l'esploratore questa cosa è strana visto il contesto nel quale è cresciuto e per il giocatore sfondando la quarta parete è una nuova introduzione per la serie principale pokemon per un abitante di Isui lottare a mani nude contro un pokemon è normale è come si sopravvive nella natura in assenza di pokeball o altri strumenti tecnologici che Risa infatti descrive come ridicoli vedendoci come dei senza spina dorsale che devono farsi scudo con altre creature per la prima volta da quando faccio questo lavoro noto una certa cura nel world building da parte di Game Freak almeno a secondo quanto visto finora lo so che state pensando a quella merda di cellulare ma vi chiedo di avere pazienza con questi dialoghi di Risa si conclude la nostra parentesi sulle missioni che riguardano le cavalcature sulle quali attendiamo di sapere di più ma come già anticipato più volte il trailer descrive nel dettaglio anche la missione di Rapan lasciando meno all'interpretazione e più alla certezza dei fatti la conformazione di quelle che saranno le vere e proprie boss fight di leggende pokemon Arceus il re della battaglia delle slide trapelate a febbraio si è finalmente rivelato e per parlare di ciò che è dobbiamo prima capire ciò che non è non è vera questa cosa contrariamente a quanto un po' tutti i fan del mondo pokemon hanno pensato me compreso c'è una netta distinzione tra le boss fight dei pokemon regali e quelle con i pokemon dagli occhi rossi che abbiamo osservato nello scorso trailer coloro che abbiamo ipotizzato essere posseduti dal dio Arceus infatti sono stati ufficialmente denominati pokemon alpha un nome che sembra a tutti gli effetti un gioco di parole tra animale alfa ovvero che occupa gerarchicamente una posizione superiore e l'alfa del cristianesimo uno dei simboli dell'eternità di dio ed ennesimo punto di collegamento fra questi esseri è il pokemon primevo secondo il sito ufficiale essi sono avversari tosti che diventeranno alleati formidabili se li si riesce a catturare immagino quindi che gli alfa saranno pokemon con statistiche migliorate mosse esclusive o comunque benefit che li differenzieranno rispetto agli equivalenti normali della loro specie essi inoltre lasciano cadere strumenti rari se sconfitti il che non solo aumenta le ricompense in caso di vittoria ma lascia intuire un drop system per queste creature che evolve quanto visto in spada e scudo con le tane dynamax e sposta questa feature al di fuori delle battaglie gimmick finora nelle lotte tradizionali in overworld della serie principale si è sconfitto un pokemon solamente per guadagnare punti esperienza o effort values in tutti gli altri casi è preferibile catturare l'esemplare di turno perché mandarlo KO quasi mai garantisce l'acquisizione di strumenti tangibili finalmente invece pokemon acquisisce un elemento tipico del genere rpg ovvero il ripetere serialmente le sfide più ardue per acquisire materiali oggetti rari un'erba dalla quale ricavare una pozione senza precedenti o scarti metallici con i quali poter costruire pokeball dall'altissimo catch rate andare a caccia di pokemon con gli alfa non significherà necessariamente accumularli potrebbe anche voler dire sconfiggerli a profusione divenendo sempre più abili nel farlo e così acquisendo sempre più ricompense di conseguenza anche se in maniera indiretta il trailer di martedì è capace di raccontarci di più su quelle che sembrano essere le mid boss fight del titolo in primo luogo confermando un sospetto avuto già il mese scorso anche i pokemon alfa sono in grado di utilizzare le tecniche rapide e potenti come le creature dell'esploratore protagonista lo possiamo notare da un'immagine del press kit che mostra un hunchcrow con gli occhi rossi mentre è intento a lanciare una tecnica rapida la cosa ovviamente denota una certa difficoltà a livello di gameplay dato che questi boss giocheranno con la priorità di attacchi e turni tanto quanto lo farà il giocatore e a livello di loro ci permette una riflessione interessante dato che le tecniche potenti e rapide sembrano dipendere dalle istruzioni date dal giocatore poiché le nostre creature non le realizzerebbero mai autonomamente è ancora più probabile che sia Arceus a controllare mentalmente questi pokemon dominanti comandandoli parimenti a come facciamo noi e spingendoli a superare i loro limiti uè dio team 6 pick 4 7 minuti di timer fatti trovare inoltre dato che finalmente vediamo la caudi durante le loro battaglie possiamo constatare che essi in overworld non presentano alcuna barra della vita speciale i loro unici punti salute vengono rivelati nelle tradizionali battaglie a turni il che significa in altre parole che non potremo danneggiare queste creature se non con una naturale interazione con i nostri pokemon al posto della barra della salute extra però troviamo quella che sembra essere una loro peculiarità si tratta di una barra rossa con un occhio altrettanto rosso al centro che lampeggia in una sequenza nella quale il giocatore viene tritato dai fulmini di un elective air alpha immagino proprio che si tratti della barra dell'aggro ovvero dell'attenzione che il pokemon rivolge nei nostri confronti la cosa sarebbe in linea con il concetto espresso dal sito ufficiale secondo il quale gli alpha ti rincorreranno e attaccheranno quando si accorgono di te il fatto che si citi l'accorgersi dell'esploratore mi lascia pensare che esista una sorta di sistema di percezione per questi mid boss con probabile colorazione dell'occhio in giallo quando essi divengono in allerta e in rosso quando avranno posato i loro istinti omicidi su di noi la cosa ovviamente apre a potenziali approcci stealth nei loro confronti dato che sembra non esserci modo di danneggiare queste creature al di fuori delle lotte a turni credo proprio che game freak voglia che il giocatore si avvicini a loro quanto più silenziosamente possibile così da entrare nel range del lancio del proprio pokemon senza entrare in contatto fisico con la creatura a conti fatti il trailer sembra raccontare la storia di un approccio stealth fallito all'inizio l'esploratore tenta di avvicinarsi delicatamente ma subito dopo vediamo che la tattica non va a buon fine e gli occhi rossi reali e figurati del pokemon si posano sul giocatore impedendogli peraltro di fuggire con la propria cavalcatura la cui icona diviene grigia qualora invece si riesca a essere silenziosi magari con l'aiuto di ostacoli ambientali e palle orbe si darà inizio a una più sicura battaglia al fianco dei nostri pokemon anche stando così le cose però fronteggiare un alfa non sembra una passeggiata se è vero come è vero che l'elective ha il mostrato nel trailer giapponese è a livello 69 un valore davvero alto per un pokemon selvatico però vabbè Gianni c'ha Mamoswine e sa che il boss non lo tocca quindi guardalo guardalo come se la sente Gianni guardalo l'antenato di Ara Shommati sembra che Game Freak attraverso l'introduzione degli alfa abbia voluto riproporre il concetto di minacce selvatiche introdotto timidamente nelle terre selvagge con pokemon evoluti fin da subito a spasso nella natura ad Isui i pokemon dagli occhi rossi credo che assurgeranno allo stesso scopo rappresentando prima minacce da evitare giocando con il sistema dell'aggro e poi una volta rinforzata la propria squadra boss da farmare con la giusta strategia unendo trailer occidentale all'orientale possiamo vedere che gli electabuds attorno all'electivire alfa rispondono alla chiamata del mid boss e corrono contro di noi lanciandoci fulmini letali è quindi possibile che il sistema della percezione risulti piuttosto punitivo e che il mid boss una volta a grato richiami tutte le altre creature nelle vicinanze del resto voglio dire si tratta di un pokemon alfa di un capobranco quindi che chiami altre creature sottomesse in suo soccorso è naturale un dettaglio del genere mi solletica la vena dell'immedesimazione però solleva anche qualche dubbio legittimo se siamo inseguiti da tre pokemon diversi come verrà gestita la possibilità di lanciare contro di loro una pokeball per passare a una tradizionale battaglia a turni se in una situazione del genere ci fosse permesso di tirare una pokeball su un electabuzz ci sarebbero due scenari possibili il primo è che non appena si entra in una battaglia a turni senza soluzione di continuità le altre creature non combattute dai nostri pokemon ci riempiono di mazzate causando una naturale fuoriuscita dalla battaglia mentre la seconda ipotesi prevede che questo non accada generando una imbarazzante situazione nella quale i caricamenti sono assenti ma il tempo attorno a noi si congela e magicamente sia il mid boss che uno dei suoi add rimangono fermi e non ci attaccano per tutta la durata della lotta mi auguro francamente che sia la prima l'opzione scelta da game freak pena la perdita quasi totale dell'immedesimazione per ora vista la stratificazione della meccanica che sembra più che allettante mi ritengo fiducioso chiudendo la parentesi sugli alfa è molto probabile che queste creature appaiano in mappa a intervalli di tempo regolari o irregolari magari con la solita tabella di spawn point precisi ciò che è certo è che verranno segnalati in mappa dato che la loro icona peculiare è presente sopra i loro punti salute è riproposta anche in alcuni punti della landa ossidiana è questa una delle differenze rispetto ai veri boss di leggende pokemon arceus ovvero i pokemon regali dei quali è arrivato il momento di parlare essi sembrerebbero invece incontri unici poiché uniche sono le creature sacre alla cui cura sono preposti i capitani scelti dal popolo di isui in mappa infatti non li vediamo segnalati con un'icona generica o specifica ma con il simbolo della missione principale placare cleavor è un obiettivo chiave il che significa che se non tutti gli alfa saranno obbligatoriamente da sconfiggere se non magari quelli integrati di tanto in tanto nelle missioni dei capitani ogni pokemon regale sarà un sicuro ostacolo per l'avanzamento della trama prima di parlare dei risvolti di gameplay di re e regine vorrei esplorare il loro significato narrativo siamo stati ancora una volta ingannati da The Pokemon Company che nel trailer di agosto ha prospettato dei rapporti di causa e effetto solo apparentemente completi in quel video infatti vediamo uno dei fulmini di Arceus colpire l'albero gigante della landa ossidiana e dopo quella scena vengono mostrati i pokemon alfa che si risvegliano abbiamo quindi ipotizzato che le due cose fossero in correlazione e se questo è probabilmente ancora vero oggi sappiamo che non è l'unica cosa a succedere in quel frangente lo fanno apposta lo fanno mi hanno preso sul personale pure il cellulare di Arceus nel vecchio trailer c'è ma un'icona placeholder e dire che mi sono chiesto il mese scorso e lei lo sa per un'ora che è quella cosa pare uno smartphone ma non può essere uno non può essere uno smartphone l'attacco del pokemon primevo cade proprio all'altezza dell'ingresso della foresta lontana luogo che conduce nell'arena nella quale combatteremo contro l'evoluzione di Scyther e rilascia un'aura gialla che è la stessa presente attorno a al momento della lotta contro l'esploratore protagonista se ciò che accade in larga scala è che il potere di controllo mentale di Arceus si diffonde su pokemon di minore importanza e dà così vita ai pokemon alpha la conseguenza principale dell'azione del pokemon primevo è possedere la creatura regale o comunque risvegliare in lei la collera senza precedenti di cui si parla nel sito ufficiale è dunque possibile che durante la campagna principale Arceus bersagli con il suo giudizio quattro pokemon sacri ottenendo su di loro effetti simili a quelli visti su cleavor e pokemon limitrofi incidentalmente i pokemon nelle vicinanze del tuono diverranno degli alpha mentre i regali sbloccheranno una versione della possessione più pura e incarneranno appieno l'ira del dio è proprio nella paura di questa collera che la missione di raphan sembra principiare il capitano alle porte della foresta ci chiede se siamo lì per incontrare il pokemon regale ancora una volta confermandoci che non c'è alcuna tradizione che riguarda lo sfidare i capitani purtroppo per noi tale visita di cortesia non sa da fare neanche io che sono un fedele capitano riesco ad avvicinarmi a cleavor per fargli delle offerte non nello stato di rabbia in cui si trova badate bene raphan non è arrabbiato con il pokemon è mortificato perché nei suoi confronti c'è la medesima riverenza che è riservata ai pokemon cavalcatura se non addirittura superiore all'entrata della foresta troviamo degli standardi che sembrano segnalare quasi l'inizio di un territorio sacro con l'effigie di cleavor ben in evidenza vorrei sottolineare due dettagli degni di nota i simboli della perla e del diamante o comunque delle due fazioni religiose vengono esposti insieme ai lati dello standardo confermandoci che le due correnti religiose di isui cooperano e non sono in antitesi proprio sopra di loro poi troviamo delle teste di pokemon che sembrano richiamare versioni estremamente approssimative di dialga e palchia a destra abbiamo un rettile con una lunga protuberanza in testa che ricorda molto quella del sovrano del tempo mentre a sinistra ne abbiamo uno con una cresta la stessa che il pokemon dello spazio ha realmente sul capo la faccia da rettile poi ben si sposa con la tipologia drago di questi due figli di dio sembra che il popolo di isui conosca le fattezze di questi leggendari alla bene meglio e le riproponga all'ingresso di questo suolo sacro concludendo questa breve riflessione dunque possiamo constatare che la religione del popolo di isui sembra particolarmente legata ad ialga e palchia ai quali sono dedicate sia le vesti dei popolani che le statue appena menzionate di archeus invece nemmeno l'ombra neanche sugli indumenti dei capitani che dovrebbero essere gli individui più vicini al creatore ne deduco quindi che come avevamo già immaginato la figura del creatore sia solo vagamente conosciuta dall'essere umano anche quello nato e cresciuto ad isui probabilmente il padre di dialga e palchia è solo un mito una leggenda che tutto il mondo conosce ma che non è protagonista neanche della fede di questi autoctoni altra informazione da tenere bene a mente e credetemi non è assolutamente per la parte finale del video che arriva sempre a sorpresa riprendendo i concetti espressi precedentemente non è così no veramente credetemi no no e poi facciamo un commento proprio su con che coraggio vuoi andare a dire che in più che ricarca la solita struttura della nativa muori affrontando Masuda o diventi o vivi talmente a lungo da diventarlo ad ogni modo Cleavor è adirato è il potere di Arceus che gli scorre nelle vene ed è sprigionato dal suo corpo lo manda in uno stato di collera incontrollata che gli fa colpire qualsiasi oggetto o creatura si trovi nelle vicinanze delle sue grosse scuri a noi l'ardo compito di fermarlo e vorrei vedere insieme a voi nel concreto del gameplay come verranno strutturate queste boss fight in fase iniziale ci troveremo in Overworld e il Pokémon regale ci attaccherà con almeno tre pattern diversi fra loro una carica con le asce che segnala al giocatore la sua partenza con un luccechio negli occhi del boss un pietrataglio che crea una sfilza di rocce a guzze in linea retta e una sorta di tornado di lame che colpisce a 360 gradi e può essere schivato solo stando lontani dalla minaccia armata una volta stordito e sembra che il boss lo farà in automatico dopo specifici attacchi faticosi o dopo aver colpito le pareti dell'arena dato che qui vede le stelle senza aver perso vita sarà possibile mandare un Pokémon in campo e passare a una tradizionale battaglia a turni qui Cleavor rivelerà i suoi reali punti salute e sarà possibile colpirlo con gli attacchi dei propri compagni non si tratterà però del fulcro della sfida poiché secondo il sito ufficiale sconfiggerli in una lotta Pokémon non basterà a calmarli lottare contro i Pokémon regali infatti servirà a stordirli per un po' in questa immagine vediamo il boss in una sorta di stato di stordimento prolungato senza le stelle sul capo viste in precedenza privato della sua aura gialla frontale e in postura sottomessa con il capochino si tratta sicuramente dell'effetto della consumazione dei punti salute del boss in una battaglia tradizionale visto che anche il prompt posto in alto è cambiato e non invita più a usare i propri Pokémon è la tua occasione per lanciargli una sfera zen ovvero oggetti che abbiamo visto nel trailer con scorte infinite e gli unici in grado di consumare la barra gialla del boss presente in Overworld sconfiggere Cleavor in una battaglia a turni comunque sembra tutt'altro che semplice pur essendo a livello 18 il suo attacco peculiare e inedito roccia scure che probabilmente è una mossa roccia fisica dall'alta potenza di base è in grado quasi di uccidere in un colpo solo lo Shawat mostrato a schermo a livello di lore è un attacco nuovo o un attacco estinto il ritmo delle battaglie contro i Pokémon regali dunque dovrebbe essere il seguente essi in primis ci attaccano richiedendoci di schivare i loro pattern variegati e poi a un certo punto si stancheranno qui sarà necessario batterli in una lotta a turni consumando tutti i loro punti salute in caso di insuccesso ovvero di morte di uno dei nostri Pokémon probabilmente si ritornerà alla fase 1 mentre uscendo vincitori si impartirà al boss uno stun prolungato a quel punto sarà possibile tirargli addosso in libertà le sfere zen che paiono avere un effetto benefico nei suoi confronti è probabile che le sfere zen lanciate addosso al boss mentre egli incollera abbiano un'efficacia limitata come dimostrerebbe la pochissima vita consumata con i lanci mostrati in alcuni momenti del trailer mentre tirandole durante il permastan del regale i danni saranno moltiplicati e più efficaci una volta terminato lo stordimento si ricomincerà dalla fase 1 i punti salute del boss in battle verranno ricaricati egli comincerà a inseguire di nuovo l'esploratore e si dovrà puntare a stordirlo pesantemente per consumare l'unica barra che conta ovvero quella gialla presente in overworld ed è il resto sfoggiata anche nelle slide trapelate a febbraio dato che sono gli unici strumenti in grado di placare la rabbia di Cleavor vorrei ragionare con voi sulla natura delle sfere zen innanzitutto si tratta di oggetti che cambieranno a seconda del pokemon regale affrontato perché Cleavor è il re delle foreste e forestali sono le sfere zen lanciategli contro nonostante il nome possa essere un po' fuorviante poi le sfere non sono realmente tali ma piuttosto sacchetti con all'interno ingredienti graditi al boss secondo il sito ufficiale le sfere zen sono create usando i cibi preferiti del pokemon sacro di turno dato che si è parlato spesso di offerte ai pokemon sacri nella forma di cibo e acqua direi che è logico pensare che le sfere zen siano proprio le offerte preparate dai capitani e che noi stessi dovremo aiutare a realizzare nella fase preliminare alla lotta contro il boss del resto nel press kit possiamo vedere le sfere zen raccolte all'interno di una cesta un'altra immagine che avvicina gli oggetti alla figura di doni alla divinità quella stessa cesta per chiudere il cerchio si trova accanto a maru durante uno dei suoi dialoghi è assolutamente probabile che siano una tradizione radicata nella cultura di isui e non una trovata ingegnosa del team galassia anche perché cosa ne sanno loro di quale sia il cibo preferito di cleavor ragionando poi nel concreto sul nome dato che in italiano e in altre lingue si chiamano sfere zen o sfere tranquillanti ma in inglese si chiamano unguenti non possiamo che guardare al nome originale giapponese per farci un'idea di cosa siano realmente questi oggetti in giapponese parliamo di shizume dama che potremmo tradurre come i grumi della calma o della soppressione pertanto è possibile che si tratti di pillole di caramelle o comunque di materiale edibile piccolo e tondo che riesce a blacare la collera dei pokemon rieccoci droga nei mostriciattoli tascabili il lupo perde il pelo ma non lo xanax ed è proprio questo dettaglio a darci modo di fare una riflessione conclusiva sui pokemon regali la tradizione di isui prevede da sempre o comunque da tanto la preparazione di cibi calmanti per queste creature il che significa che non solo sono devoti a loro ma li temono temono la loro forza brutta la religione di questo popolo che ricordiamolo sembra essere più legata ad alga e apalchia che è arceus è di grande sottomissione bisogna tenere buoni e tranquilli gli dei che ci circondano perché altrimenti rischiamo che possano arrabbiarsi e sfogare quest'ira contro di noi chiaramente le sfere non sono state create per permettere all'esploratore di affrontare la situazione che si trova davanti che è eccezionale come dimostra la sorpresa di raphan nel vedere clivora di rato e la problematica che secondo sito ufficiale comunicato stampa è da additare ad uno strano fenomeno è sicuramente legata ai fulmini di arceus il giocatore dunque non deve consumare i punti salute del boss ma ripristinare la sua calma facendolo mangiare noi non ci troveremo qui a privare queste creature della salute ma a recidere il controllo mentale che dio ha su di loro o comunque diminuire gli effetti di una alterazione psicofisica che parte dal pokemon primevo è incredibile come si possa ancora una volta avvertire il dualismo che permea leggende pokemon arceus mentre raphan è dispiaciuto e per lui placare cleaver è un dovere morale e religioso per soruan le cose stanno diversamente egli in un frame del trailer ci ordina di studiare cleaver per scoprire la verità su di lui non c'è nessun compito divino ma semplicemente un'esigenza di analizzare delle creature pericolose per aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza del resto lo sappiamo per lui e per l'aven i pokemon sono solo creature terribili e pericolose volendo aggiungere carne al fuoco in un passaggio del comunicato stampa possiamo leggere che c'è tensione tra team galassia e autoctoni di isui i pokemon regali incolleriti sono incredibilmente difficili da gestire e gli abitanti di isui non possono far altro che chiedere aiuto al team galassia non possono far altro quasi come se in realtà non volessero ma non avessero altra scelta perché il team galassia ha accesso a una tecnologia che in questo frangente fa comodo lo abbiamo detto prima è solo lo stordimento massimo che permette alle sfere zen di essere veramente efficaci ma questo stordimento massimo può essere ottenuto solamente usando pokemon contro altri pokemon mediante l'utilizzo delle pokeball esclusiva dei colonizzatori con la ciccia grossa su capitani e loro lore abbiamo concluso e mi prodigherei a fare un commento su game design e comparto tecnico del titolo ci sono alcune osservazioni da fare soprattutto per commentare cambiamenti che definirei sorprendenti benché alcuni dettagli aggiuntivi sui pokemon selvatici siano più che graditi come l'animazione idol di Electabuzz che lo vede riposare goffamente per terra o i Drifblim che spariscono dalla vista del giocatore con una sorta di teletrasporto in una dimensione spettrale alternativa devo confermare quanto già detto nella scorsa analisi tecnicamente leggende pokemon arceus non mi sembra affatto in salute in netta antitesi con quanto sembrerebbe narrativamente ricco di dettagli le texture di gioco sia degli elementi di sfondo come le rocce o il terriccio sia dei vestiti degli npc sembrano veramente in bassa risoluzione l'aliasing di alcune creature come basculision è davvero evidente e genera dei contorni seghettati sgradevoli gli ambienti sia marini che terrestri sembrano poveri di dettagli e la bassa densità dei pokemon selvatici visibili non aiuta benché sia stata sicuramente prevista per evitare scomodi cali di frame dove ci sono più pokemon infatti nel pascolo tutto lagga malissimo inoltre non ho fatto in tempo a dire che ponita si girava bene nello scorso trailer che eccolo qua cleavor che fa un accenno di moonwalk non siamo ai livelli di zamazzenta però eccola un po' di michael jackson io ce l'ho visto in un generale sentimento di insoddisfazione tecnica abbiamo qualche luce nel buio la profondità di campo della visibilità dei modelli 3d sembra aumentata rispetto a pokemon spada e scudo come testimonia questo goldak sullo sfondo visibile da molto lontano e la mappa di gioco osservata in diverse occasioni conferma che ogni singola macro area sembrerebbe contenere molte mini aree al suo interno con ampiezza simile se non superiore alle terre selvagge dell'ottava generazione già che ci troviamo qui completiamo il commento della mappa in game con le ultime icone delle quali non abbiamo ancora parlato in basso troviamo la funzione di segnalini e timbri confermandoci implicitamente la possibilità di impostare destinazioni personalizzate in navigazione mentre come simboli automaticamente generati troviamo quello della baccalampon che sicuramente segnala la presenza di alberi con bacche e potenziali pokemon selvatici e le ghicocche che invece segnaleranno la presenza di arbusti con materiali per creare pokeball e forse pokemon come pineco ci sono poi le tende blu che immagino siano dei punti di teletrasporto necessari per semplificare la navigazione in una mappa molto estesa e riproposizione di quanto abbiamo già visto sia nelle terre selvagge che nelle mappe aggiuntive di dlc dato che sembrano utilizzabili dalle prime ore di gameplay visto che la mappa racconta del momento in cui il giocatore deve ancora affrontare la prima boss fight è plausibile che le ali accanto alle tende non rappresentino un reale volo a bordo di bravery ma solo un viaggio rapido dalla prospettiva del giocatore in alto a sinistra abbiamo poi un'icona bianca che credo segnali la transizione alla mappa del villaggio giubilo e mi fa tornare la paura pazza di mappe precaricate e solo una parvenza di open world mentre poco più a destra abbiamo l'icona di una pokeball dato che le pokeball sono da sempre il simbolo di pokemon center e pokemon market credo proprio che lì si trovi un campo base del quale abbiamo già parlato nello scorso video che permette ai giocatori di recuperare vita di farla recuperare al proprio team di comprare oggetti e persino di crearli inoltre secondo il comunicato stampa all'interno del campo base si potrà accedere anche ai pascoli ovvero i box di questo gioco pokemon la cui unica versione fisica si trova al villaggio giubilo la cosa rappresenta una duplice scelta di coerenza narrativa con un mondo antico ad isui non può esistere la capacità di conservare digitalmente le proprie creature ed è per questo che i pokemon in eccesso andranno depositati manualmente dentro un recinto dato che però risulterebbe fastidioso dover tornare ogni volta a piedi indietro fino al villaggio giubilo per modificare il proprio team la funzione a livello di gameplay è stata estesa anche al campo base la scelta non presenta in realtà alcuna incoerenza logica perché sarà probabilmente il membro della squadra di vigilanza sempre presente in queste location a prendere le nostre pokeball in eccesso portarle indietro al villaggio recuperare i pokemon di cui abbiamo bisogno e consegnarceli nel campo base e lo faranno nell'arco di 10 secondi però quello è gameplay e pare a kangaskan che nasce col bambino che la gestione dei box torni ai vecchi fasti del andare e tornare a piedi non è una supposizione o non si spiegherebbe questa frase del sito ufficiale scegli i pokemon adatti per ogni missione prima di partire e lascia gli altri al pascolo prima di partire lascia intendere che questa azione non sia fattibile in ogni momento del gameplay ma solo quando si ha accesso al pascolo in modo diretto e indiretto già che ci siamo osserviamo nell'interfaccia nel dettaglio perché sarà pregna di informazioni preziose e aprirà il capitolo odierno di numeri che non tornano manco per il cazzo by Cydonia i pascoli come sempre avranno 30 posti cada uno e saranno molteplici come testimoniato dal menu in alto che recita pascolo 2 Gianni Rodari non ce l'hanno messo ma pascoli sì finalmente grazie ragazzi prima il mio pokemon poi pascoli grandi questo lo deposito nel pascoli questo nel dannuns ecco nel dannuns che sono quelli che fanno dannuns dps in alto a sinistra possiamo vedere i soliti selettori conosciuti già nella serie principale il primo quello utilizzato nel trailer che serve per prendere un pokemon per volta il secondo che serve per scambiare due pokemon di posizione e il terzo per la selezione multipla chiunque giochi spesso ai core game però si renderà conto che un selettore manca all'appello ed è qualcosa che già pensavo da tempo ma che oggi trova una conferma piuttosto incontrovertibile manca il selettore presente anche in pokemon spade scudo con il quale spostare gli strumenti dei pokemon e in assenza di una qualsivoglia citazione agli oggetti nel menu a destra in antitesi con quanto accade a galar direi che possiamo darlo per assodato proprio come in let's go pikachu e in let's go eevee non solo le abilità ma anche gli strumenti tenuti dei pokemon non saranno disponibili una cesura che ancora una volta comprendo dato che il titolo vuole puntare tutta la propria stratificazione sul sistema delle tecniche e delle priorità dei turni sempre a proposito di mancanze mi sento di aggiungere una supposizione ulteriore benché non se ne possa essere certi perché informazioni del genere sono accessibili talvolta solo nel menu interno del singolo pokemon è plausibile che anche le nature siano state tagliate nel titolo open world mentre in pokemon spada e scudo nella stessa interfaccia equivalente possiamo vedere le due statistiche evidenziate di rosso e di blu cioè quelle aumentate e diminuite da una determinata natura in leggenda pokemon arceus la cosa non sembra succedere il drift blim in questione potrebbe essere di natura neutra certo ma a mio avviso ha senso pensare che le nature non esistano perché sarà la funzione a loro collegata a essere assente sto parlando dell'allevamento dato che il pascolo è una stalla e richiama l'immagine delle future pensioni pokemon alle quali siamo tutti abituati è improbabile che esistano anche strutture identiche alle quali viene affidata la gestione dell'allevamento pokemon rimuovere il breeding è poi una scelta sensata a livello di game design perché il gioco incentiva a catturare molteplici esemplari della stessa specie fra i pericoli della natura e non al caldo del villaggio giubilo in ottica di world building poi si può dire la stessa cosa perché in un mondo nel quale pokemon e uomini vivono vite separate è assurdo che l'uomo conosca i segreti dell'accoppiamento di queste creature a queste rimozioni però vengono affiancate aggiunte e modifiche l'incremento delle statistiche delle creature in primis sembrerebbe comunque possibile e parrebbe segnalato dalla figura di un pugno con un numero in sovrimpressione e un cerchio di completamento assurdo ragazzi game freak che decide volontariamente di inserire un valore numerico per la crescita delle statistiche anziché un aggettivo randomico preso dalla treccani avevano ragione è il futuro di pokemon data la presenza dell'icona del pugno chiuso sembrerebbe proprio il valore di allenamento di quella determinata statistica della creatura una sorta di equivalente degli effort values insomma o delle caramelle pokemon già viste in let's go pikachu e let's go eevee il cerchio all'esterno dell'icona sembra riempirsi ad ogni allenamento svolto mediante un dojo dedicato o strumenti specifici e a giudicare dalla differenza tra il cerchio con il valore 1 e quello con il 2 direi che gli allenamenti massimi possibili sono 10 per statistica il drift blim in questione quindi avrebbe ricevuto un allenamento in hp due in difesa e uno in velocità in attesa di sapere se i pokemon potranno raggiungere il livello allenamento 10 in ogni statistica o come per gli evi ci sarà un numero di allenamenti totale distribuibile fra le 6 statistiche della creatura vi anticipo che il concetto di dojo che allena i pokemon sembra piuttosto probabile date un'occhiata qui in basso se già le pergamene delle tecniche rapide e potenti ricordano gli allenamenti svolti nell'isola dell'armatura oggi posso dirvi con certezza che le mosse pokemon non potranno attingere a questi cambiamenti automaticamente ma dovranno essere appunto allenate e il motivo è davanti ai nostri occhi extra senso una semplice mossa di attacco è stranamente non dotata di pergamena inizialmente ho pensato che si trattasse di un bilanciamento della mossa di una privazione della possibilità di usare su delay delle modifiche tanto quanto come avevamo osservato lo scorso mese per acquaggetto ma proprio in questo trailer mi sono reso conto di essere in errore e almeno le mosse d'attacco plausibilmente saranno tutte modificabili date un'occhiata a Oshawott durante il suo combattimento contro Cleavor il pokemon ha acquaggetto nel suo moveset e a differenza dell'ultimo trailer questa volta la mossa prioritaria è anche modificabile con una pergamena mosse prioritarie che si possono utilizzare aumentando il numero di turni accumulati dal pokemon aprendo le porte a uno stunlock infinito io mi auguro che o si possa modificare solo in tecnica potente o ci sia un cooldown di 45 turni per l'utilizzo delle pergamene altrimenti l'alternativa è che Game Freak se ne esca con volevamo citare il grande passato con LegaTutto che ti stunlockava per 45 turni come i vecchi tempi del Game Boy oppure hanno sbagliato a photoshopare una pergamena nell'HOD l'assenza di pergamena nel primo trailer e la presenza nel secondo dimostra che l'attacco può essere contemporaneamente sia dotato della possibilità di modifica che non immagino che quindi vada allenato appunto nello stesso dojo nel quale permetteremo anche alle statistiche delle creature di salire e tutte queste azioni richiederanno sicuramente la spendita di valuta in game o magari di materiali rari droppati dagli alfa e a proposito di statistiche che crescono è arrivato il momento di affrontare l'elefante nella stanza per chiunque giochi un minimo competitivamente a pokemon sarà chiaro come il sole che le statistiche di questo drift blim sono dopate questa creatura è a livello 32 e pur non tenendo conto dei possibili valori da crescimento dell'ipotetico dojo quasi ogni singola statistica eccede quanto normalmente consentito il suo attacco è a 100 ma oggi un drift blim con 31 ev, 252 ev e natura favorevole raggiunge solamente 94 punti un discorso simile può essere fatto per attacco speciale e velocità valori leggermente più alti del massimo consentito attualmente con il conteggio della velocità che è alterato anche dal punto allenamento acquisito ci tengo a precisare che per massimo consentito intendiamo la statistica al suo valore con natura favorevole e quindi è come se questo drift blim avesse natura favorevole in tutte le statistiche al contrario le difese sono leggermente più basse del massimo raggiungibile in passato ma sono compensate dall'aumento che ho lasciato per ultimo e che è gargantuesco drift blim a 252 ps probabilmente senza il punto di allenamento ne avrebbe un po' meno ma in ogni caso un drift blim oggi avrebbe 168 ps al suo massimo se drift blim fosse un caso isolato ci metterei una croce sopra e game freak che ha scritto numeri a caso ma non è così qualsiasi pokemon mostrato nei trailer ha punti salute fuori dal comune syndaquil ne ha 61 a livello 10 anziché 37 hoshawatt 97 o addirittura 106 nella versione giapponese a livello 16 anziché 58 lopanni 110 ps al 16 anziché 61 si parla di aumenti che vanno dal 37 al 60% in più dei valori originali il che ci lascia fare un'unica congettura il modo di computare le statistiche di base dei pokemon nella serie leggende cambierà sarà forse privo dei sistemi di iv ed ev e vedrà un incremento generale dei punti salute dei pokemon per donare ad essi la resilienza necessaria a resistere alle frequenti tecniche rapide o potenti dell'esploratore protagonista e dei suoi avversari alfa non posso che dirmi almeno in teoria soddisfatto di una rivisitazione del genere la paura che avevo espresso nello scorso video era proprio quella di una scarsa resilienza dei pokemon incapace di supportare il nuovo sistema di attacchi con priorità aggiuntive e potenze di base drogate in ultimo ma non meno importante commentiamo questi due dettagli il logo dell'originalità di isui del pokemon che ha l'anello di arceus come simbolo e la menzione del proprietario del pokemon che ora non è più allenatore ma alleato in italiano o partner in inglese ancora una volta non posso che dirmi soddisfatto della cura che game freak sembra impartire alla sua impalcatura narrativa in quanto il concetto di allenatore non esiste l'esploratore protagonista è solo alleato delle sue creature e si avvicina a quel binomio uomo pokemon incarnato pienamente da risa e già discusso nel nostro video chiuso il capitolo pascolo c'è un'ultima icona da commentare si tratta di un sedimento minerario che conferma implicitamente la possibilità di ricavare materiale dai cristalli magari dopo aver ricevuto un bel piccone da rapan i sedimenti minerari saranno visibili anche dall'alto a bordo del nostro deltaplano bravery di isui in questa immagine del press kit in alto a destra possiamo vedere proprio un cristallo nero in lontananza il che ci dimostra che sorvolare la regione sarà utile anche per osservarne i dettagli e non solo per spostarsi rapidamente volendo fare una breve carrellata delle funzioni delle mount ricordo poi che con weirdir è possibile correre ad alta velocità e saltare ostacoli mentre con basculegion si naviga e si fanno salti sul pelo dell'acqua nel trailer possiamo vedere anche una sorta di bullet time attivabile durante le acrobazie di basculegion che ci permetterà di mirare meglio i pokemon sottostanti e forse persino di aumentare il catch rate delle creature così bersagliate dove ho già visto questa cosa? dove mi chiedo io? dove? proprio questa sequenza poi ci permette di osservare meglio quello che sembrerebbe essere il monte ostile e la presenza di una costa chiaramente visibile ci rassicurerebbe sull'esplorabilità della zona come avrete sicuramente notato le cavalcature sono selezionabili attraverso i tasti direzionali destro e sinistro e poi richiamabili con il tasto più con il quale probabilmente l'esploratore suonerà il flauto memory day a sinistra invece notiamo che con il tasto direzionale su si apre l'inventario e con il giù invece il pokédex cartaceo e si è giunto il momento dulcis in fundo con il tasto meno azioniamo il nostro cellulare che riproduce letteralmente le fattezze di Arceus e prende il nome di Arceus Phone persino nell'originale giapponese Aruseus Phone perché la musica sta cambi... non può essere questa la parte seria del video l'Arceus Phone è l'elemento che più mi ha fatto storcere il naso dell'intera presentazione di martedì un telefono cellulare nel mondo antico quando l'ho visto in live su Twitch insieme a voi la mia prima impressione è stata quella di aver individuato il frangente meme del videoanalisi parlando di questo gingillo sarebbe arrivato il momento di perculare Game Freak mostrando ancora una volta quanto la software house sia approssimativa e superficiale col suo world building questa sensazione è rimasta con me durante l'inizio della scrittura del video e poi lentamente ha cominciato ad alterarsi viaggiando tra dialoghi, funzioni di gioco e persino HUD non ho potuto che notare una Game Freak si pasticciona con la tecnica ma sorprendentemente attenta con la narrazione e soprattutto con il rispetto di una versione Pokémon del Giappone feudale presentato voglio dire, persino lo studio fotografico del villaggio Giubilo è stato realizzato tenendo fede agli studi fotografici della fine dell'Ottocento possiamo infatti vedere il tipico sfondo neutro realizzato con un telo bianco e persino gli specchi che venivano adoperati per propagare la fugace luce artificiale ricavata dai rudimentali flash al magnesio se le foto a colori saranno ovviamente realizzabili per ragioni di gameplay le più grandi esposte fuori dal negozio, almeno nel trailer, sono color seppia per non stonare troppo con l'architettura circostante e mantenere l'immedesimazione in un tempo passato può quindi davvero essere solo un errore di scrittura? il cellulare moderno in un contesto passato è davvero raccontabile solamente come espressione della stupidità di Game Freak? qualora fosse così ci troveremo davanti a uno degli errori di scrittura più grandi della storia del videogioco ma a mio avviso è impensabile perché anche la più distratta delle software house si renderebbe conto del problema al di là delle coordinate temporali che in una storia di fantasia lasciano il tempo che trovano pensiamo anche solo alle problematiche di coerenza del world building in un titolo che è totalmente basato sull'idea di creare il primo bestiario di Isui in carta esiste la tecnologia dei telefoni cellulari smartphone schermi touchscreen, caricatore seat type come può un mondo del genere avere accesso ad un device elettronico ma allo stesso tempo avere uno dei più grandi studiosi del globo il professor Laven che realizza sketch su carta dei pokemon che studia? come si può conciliare elettronica e cartografia solo manuale che sembra essere la specialità di Selina come testimoniato dalla lavagna alle sue spalle? come si può avere bisogno delle stalle per conservare i pokemon e contemporaneamente avere un cellulare che nell'accanto che aveva i pc e il sistema di deposito pokemon non esisteva? non è possibile e non sta in piedi il paragone che qualcuno fa con Zelda Breath of the Wild della tavoletta Shika la tavoletta Shika, benché ovviamente ispirata a un tablet è pienamente coerente con la tecnologia di Hyrule in quel momento non solo device elettronici ma anche robosse moventi dotati di artigli torri e sacrari che compaiono da sottoterra stimolati da impulsi elettrici e moto ancestrali che colorano un mondo con una tecnologia tutta sua della quale la tavoletta Shika non è eccezione ma piena espressione l'incongruenza lamentata, lo voglio sottolineare non è che esista uno smartphone nel Giappone feudale perché nel Giappone feudale di pokemon tale tecnologia a differenza del mondo reale potrebbe essere stata già sviluppata il fatto è che questo smartphone coesiste in un mondo di fantasia che presenta una retratezza tecnologica diffusa è una distanza importante da tutto ciò che è digitale non sembra un caso, non può essere un caso quel cellulare è volutamente incoerente con tutto il resto non è materiale per i meme ma una citazione a Youpart Out of Place Artifact un oggetto che non è coerente con il contesto tecnologico al quale viene attribuito per capirci si tratterebbe di una reliquia simile al geroglifico di Abydos che secondo alcuni ritrarrebbe inspiegabilmente un elicottero apaci statunitense in un contesto storico totalmente senza senso Game Freak potrebbe aver voluto prendere questo elemento del mondo reale e convertirlo in chiave Pokémon come avrebbe già fatto peraltro con la meridiana di Fluxopoli a Kalos se le cose stanno così però è arrivato il momento di farci la domanda successiva come ci è arrivato un oggetto del genere ad Isui e da dove proviene? non posso rispondervi con precisione ma posso dirvi che ci sono molte prove che puntano dritte verso una comparsa di questo device dal nulla in un frame del trailer giapponese vediamo il cellulare caduto a terra e a meno che qualcuno non l'abbia gettato via in preda alla rabbia sembrerebbe proprio la tipica situazione della reliquia divina che cade dal cielo forse da un ultravarco visto che il Pokémon Primevo sembra aprirne diversi durante i suoi giudizi lanciati in preda all'ira inoltre date un'occhiata a questa immagine del press kit nonostante siamo noi esploratori da evangelizzare come dimostra il dialogo di Risa sull'importanza di venerare Weirdir il ruolo in questa scena sembra invertito e vediamo che sono i protagonisti a mostrare il device al capitano se non avessimo visto questo cellulare per terra potrei pensare che si tratti di un momento nel quale il Team Galassia fa sfoggio delle sue tecnologie davanti al retrogrado popolo di Isui ma l'oggetto è appunto abbandonato in un altro frame del trailer e la ricostruzione degli eventi più semplice è anche solitamente quella più efficace l'esploratore vede l'oggetto per terra lo raccoglie e chiede al capitano se lo riconosce ricevendo plausibilmente risposta negativa il perché lo sappiamo già la religione di Isui non conosce esattamente le fattezze del D. Archeus non le ripropone su vesti e standardi e se il giocatore può riconoscere chiaramente la somiglianza tra il cellulare e il Pokémon Primevo come lo stesso sito ufficiale sottolinea è probabile che alcuni personaggi della storia non sapranno fare altrettanto per loro quell'oggetto è un congegno magico dalla strana forma e svelare la sua natura probabilmente sarà parte del nostro viaggio pensateci Game Freak è solita ripetere continuamente i suoi schemi narrativi e qui saremo davanti all'ennesima ripetizione di un cliché già visto da sole luna nel 2016 abbiamo Tapu Koko che ci regala un frammento grezzo di un cristallo Z nel 2019 abbiamo il desio blocco che dal cielo cade ai piedi di Hope e allenatore di Furlongham e nel 2022 un device tecnologico che compare ai piedi dell'esploratore protagonista in un mondo ancora vincolato alla carta quell'oggetto probabilmente è caduto dal cielo e se ancora non so dirvi come sia finito lì esattamente è possibile ragionare sul suo contesto originale di provenienza frugando logicamente nella sua natura in primis il nome l'oggetto si chiama Arceus Phone ma in un mondo che al massimo dovrebbe conoscere i rudimenti della telefonia fissa come fanno i protagonisti a associare subito il concetto di telefono a un oggetto così diverso? se lo avessero dovuto nominare loro autonomamente mi aspetterei cose come la tavola magica la mappa che si illumina e cambia forma è quindi plausibile che gli abitanti di Isui scoprano il nome dell'Arceus Phone accendendolo magari vedendone un logo dopo aver premuto il tasto ON ma allora la cosa lascia aperta un'unica possibilità questo oggetto viene da un mondo nel quale invece il concetto di smartphone esiste già e non può essere stato creato da qualcuno che vive nel mondo di Isui anche dalla mente più geniale la tavoletta shika del resto si chiama tavoletta non tablet shika punto numero 2 le fattezze del cellulare l'Arceus Phone è letteralmente a forma di Pokémon Primevo e se la cosa non sorprenderebbe in un mondo devoto al creatore lo fa invece in un contesto nel quale la sua icona non appare da nessuna parte questo oggetto non solo è stato creato in un tempo diverso ma da qualcuno che conosce le fattezze di Dio pensateci, l'icona di Arceus l'abbiamo sempre e solo vista nell'HUD e mai nell'overworld o sulle vesti di qualcuno il che mi porta alla supposizione successiva dato che nel tempo presente non ha alcun senso dare a un cellulare la forma di Arceus perché non se ne trae alcun beneficio a livello tecnologico la sua forma sembrerebbe più un messaggio che una reale necessità chi ha creato questo oggetto forse lo ha spedito nel passato anche volendo imprimergli questa forma una forma capace di guidare chiunque lo ricevesse verso un obiettivo fisicamente ancora ignoto e qui non sto parlando di supposizioni ma di fatti il sito ufficiale chiarisce che l'Arceus Phone sarà in grado di guidarci nella nostra avventura e questa cosa è confermata in maniera incontrovertibile anche dal press kit ricordate la mappa che vi abbiamo fatto vedere per tutto il video? come The Pokemon Company ci siamo permessi di fare un lavoro di taglia e cuci per non rovinarvi il finale di questa analisi la mappa in realtà non è una mappa è lo schermo dell'Arceus Phone del quale possiamo intravedere anche la cover e la funzione di zoom e de-zoom presente sull'interfaccia dunque non è gameplay è una funzione del telefono questo cellulare viene dal futuro ed è stato lanciato nel passato per guidare i passi dell'esploratore protagonista con tutte le funzioni del caso segnalatore di obiettivi funzioni di navigazione informazioni sulla terraformazione della mappa chiunque l'abbia spedito qui sapeva di cosa avremmo avuto bisogno non è un lascito sbadato dal futuro ma un oggetto volontariamente donato per farci orientare in una regione sconosciuta qualcuno nell'ombra sembra aiutare abitanti di Isui e membri del Team Galassia a placare l'ira del Pokémon primevo e sembra farlo con più di semplici capacità di programmazione e progettazione i Pokémon sacri come detto più volte posseggono una misteriosa benedizione ed è il momento di tornare su di lei in mancanza di Chierici dato che i Capitani sembrano popolani come tutti gli altri non superiori a loro questa benedizione deve essere stata impartita ai Pokémon sacri da Arceus stesso e benedizione è probabilmente il nome con il quale gli abitanti di Isui si giustificano il grande potere che permette a Weirdir di scarrozzare instancabile i popolani del luogo e a Cleavor di divenire una macchina da guerra tale benedizione dunque può essere anche letta come la cessione di una frazione infinitesimale del potere di Dio ad altri Pokémon potere poi risvegliato attraverso il flauto Memor Day o i fulmini del giudizio del Pokémon primevo in maniera molto meno pacifica il che ci fa chiudere il cerchio sul rapporto tra uomini e Arceus il Pokémon primevo crea l'universo e dona al mondo re, regine e Pokémon aiutanti che attraverso il suo potere coadiuvano uno sviluppo del mondo pacifico e in sicurezza poi però i colonizzatori decidono di schiavizzare i Pokémon capitani fedeli come Maru vengono affascinati dalla forza della scienza e della tecnologia e Arceus perde il controllo trasformando i Pokémon sacri donati in bombe a orologeria se dovessimo trovare una forma alla benedizione di Arceus direi che in primo luogo sarebbe caratterizzata dal colore giallo presente perfino nelle icone dei Pokémon cavalcabili e in secundis dall'oggetto che il Pokémon ha sul ventre richiamato anche dall'aura di Kleavor la bestia in ferocita ha questo simbolo sempre davanti alla faccia e ne vediamo chiaramente le punte lunghe e quelle più corte che dovrebbero rappresentare l'anello di congiunzione dove ho già visto questo simbolo? ma certo sul cellulare che cade dal cielo proprio quando si trova per terra sembrerebbe quindi che la misteriosa benedizione sia stata recepita anche dal telefono e la cosa è coerente con quanto leggiamo sul sito ufficiale perché sappiamo che la benedizione in realtà è un potere nel cellulare al di là di ogni tecnologia fuori posto è presente un misterioso potere e ne abbiamo appena identificato la natura nel device c'è una goccia di forza sacra la stessa che viene immagazzinata da Pokémon aiutanti e Pokémon regali in ottica di aiuto ricevuto da qualcuno che viene da un'altra dimensione o da un altro tempo la scoperta è sbalorditiva chi ci sta guidando non solo ci dona un oggetto altrimenti irrealizzabile per la tecnologia del tempo ma anche una goccia di potere divino che non possiamo sapere se è stato volontariamente incanalato nell'oggetto o acquisito per pura casualità il risultato in ogni caso è lo stesso con esso saremo in grado di lottare ad armi pari con le pedine di Arceus perché avremo in mano il loro stesso potere non sappiamo a cosa serva il frammento di Arceus presente nell'Arceus Fawn ma è plausibile che possa entrare in risonanza con le auree di Alpha e Pokémon regali permettendoci di individuarli oppure che ci aiuti ad assorbirne la collera oppure ancora che dia accesso a una trasformazione per i nostri Pokémon ancora non rivelata dai trailer ciò che è certo è che senza un dispositivo del genere l'umanità avrebbe molta più difficoltà a contenere la collera dei Pokémon regali e in altre parole chi ha mandato il cellulare indietro nel tempo tenta di far vincere all'umanità uno scontro che in altre timeline senza un intervento simile è verosimilmente fallito come la Wall-E distrutta da Gazzlord in assenza del giocatore Game Freak per questo gioco ripresenterebbe un'impalcatura narrativa simile a quella usata in Art Gold e Soul Silver esattamente come il Team Rocket di Giotto viene sconfitto solo grazie a un viaggio temporale del protagonista che così evita il ritorno di Giovanni la campagna di leggende Pokémon Arceus potrebbe essere portata a termine solo grazie all'intervento di un anonimo benefattore la cui identità non può certo essere rivelata nel video di quest'oggi sarà Bellocchio personaggio di quarta generazione che ha canonicamente viaggiato fra le dimensioni e quindi nel tempo anche se non si conosce quale fosse il suo scopo? Sarai il viaggiatore dimensionale citato in Mystery Files del 2017 al quale dobbiamo alcune tecnologie U-Part Pokémon fuori posto come le lastre di Arceus nelle rovine avvissali di Unima oppure addirittura la scatola meccanica di Melmetal in un accanto che scrive ancora su pergamena? E se volessimo andare ancora più in profondità le lastre che canonicamente vengono definite come tecnologia che viene dal futuro sono davvero lastre o è solo il modo in cui chiamiamo oggetti tecnologici del futuro che non possiamo comprendere sono per caso la nostra versione del cellulare nel passato? E' ancora presto per scoprire la verità e mi chiedo se in realtà l'identità di questo benefattore verrà discussa in leggende Pokémon Arceus ma vi lascio con un'ultima riflessione sapete chi è che ha canonicamente viaggiato in dimensioni differenti? Ha avuto accesso a gocce di potere divino e è un patito di tecnologia fin da piccolo? Cyrus l'antagonista di quarta generazione ha aperto portali per altre dimensioni con l'intervento di Dialga e Palkia e quello indiretto di Giratina è riuscito a togliere del potere divino dal corpo di Pokémon sintetizzando la rosso catena da Azelf Uxie e Mesprit ed è un fanatico dei macchinari come viene raccontato a più riprese sia nei videogiochi che addirittura nel manga ufficiale non sarebbe perfetto spedire un oggetto nel passato in un mondo distratto da una guerra ideologica per farsi condurre indisturbato dall'unica creatura capace di dare vita al suo mondo senza spirito non sarebbe poetico farlo attraverso le mani di un antenato del bambino che lo ha sconfitto nel presente e in ogni altra timeline nella quale quell'avatar esiste forse sto vaneggiando chi può dirlo la scienza diventerà sempre più necessaria per il mondo pokemon diceva l'antagonista in un dialogo poi tagliato nei videogiochi commercializzati magari non era solo un modo di dire signori abbiamo finito e mamma mia che fatica ma è fatta è fatta è fatta adesso è il momento di sapere la vostra da dove viene questo cellulare fatemelo sapere nello spazio commenti youtube e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like pronto mi è stato appena detto che per difendere i vostri device del presente del passato e anche del futuro potete cliccare sul commento pinnato qua sotto e accedere alla promozione di nordvpn l'unico servizio di vpn che possiede più di 5200 server in oltre 60 paesi nordvpn è certificatamente la vpn più veloce al mondo e vi permette di proteggere i vostri device anche quando siete collegati a reti condivise e credo proprio che nel viaggio dimensionale ci sia un momento di condivisione tra tutte le dimensioni se siete gamer poi nordvpn vi protegge dagli attacchi dos e vi permette anche di scaricare giochi sfruttando promozioni non disponibili nel vostro paese qualora la cosa rispetti i termini e condizioni almeno in questa dimensione poi approfittate della possibilità di sottoscrivere un piano di due anni con ben quattro mesi in regalo e il 73% di sconto trovate tutto nel link in descrizione o appunto sul commento pinnato in alto io vi ricordo che ci vediamo oggi pomeriggio ore 17 per dark souls in compagnia del maestro sabaku io sarò riposato mentre nei giorni scorsi probabilmente avrò dormito letargizzando si dice boh ciao il cerchio all'esterno del che cosa ok il cerchio all'esterno cosa ok di l'icona